Ciao a tutti e benvenuti sul canale ufficiale di Bioschic. Io sono Francesca e per coloro che non mi conoscessero possono sapere qualcosa di più su di me andando a vedere l'episodio di presentazione. Piacere Francesca di Biorituali. Siamo quasi giunti alla fine del nostro percorso ispirato alla routine coreana. Io spero che i nostri consigli vi siano serviti a chiarire qualsiasi dubbio o perplessità. Potreste pensare che l'applicazione della crema giorno sia l'ultimo passaggio, ma in realtà manca ancora l'ultimo tassello a completamento del nostro trattamento, ovvero la protezione solare. Ve ne parlo tra pochissime. Le donne orientali per loro cultura e abitudine hanno da sempre protetto efficacemente la loro pelle dai raggi solari, utilizzando creme con fattori di protezione molto alta durante tutto l'anno. Invece nella nostra cultura l'abbronzatura è diventata nel tempo sinonimo di bellezza, di benessere e di vacanza e essendo noi amanti del sole difficilmente riusciamo a rinunciare a questo piacere. Tra questi due approcci dialetticamente opposti sul rapporto sole pelle e se la nostra pelle non presenta problemi clinici o di vieti dermatologici, possiamo optare per un compromesso e trovare una soluzione personalissima ma sicura per proteggerci dal sole e non scappare. Facciamo adesso un esempio pratico citando un brand molto valido e una loro proposta. Per le pelli chiare e delicate, soggette a macchie o rossori, è possibile utilizzare sia al mare quanto in città un velo di crema BioEarth SPF 50 che grazie ai filtri fotostabili di uva, UVB e IRR, offre una tripla protezione e contrasta l'invecchiamento cutaneo. Io ho scelto in base al mio fototipo la protezione solare viso BioEarth SPF 30. Crema viso solare ad attività anti-age e antimacchia, utilissima in caso di esposizione diretta ai raggi del sole, sia al mare quanto in montagna. La protezione solare viso BioEarth SPF 30 è realizzata con filtri solari fotostabili e formulata con estratto di fungo Reishi. Superfoods, oltre a diversi altri ingredienti attivi, di ultima generazione molto efficaci per il contrasto dei segni del tempo e la formazione di macchie brune sulla pelle. Ha una texture leggera e facile da spalmare, non lascia scia bianca e non unge. Oltre alla protezione solare, per prendersi cura di sé al meglio, proprio come BioChic da sempre si propone di fare, non può mancare l'uso del dopo sole e la sua importantissima azione restitutiva e rinfrescante. Aftersun viso di BioEarth è un trattamento ricco di aloe vera, olio di argan, tea verde, vite rossa e acido ialuronico, ideale per donare un'immediata sensazione di sollievo sulla pelle. Grazie alla sua texture leggera, a base di estratti botanici, dalle proprietà antiossidanti, si può utilizzare un'involta dopo l'esposizione solare ed inserirla anche dopo la detersione serale come trattamento notturno. Prima di salutarci, vi segnaliamo una bellissima sorpresa che BioChic vi ha riservato. Infatti con l'acquisto di due prodotti della linea BioEarth avrete in omaggio una maschera in tessuto della linea Aftersun per coccolare la vostra pelle del viso dopo l'esposizione solare. Potete scegliere tra tre versioni, la versione dissietante per pelli secche, la versione fissante per chi desidera prolungare l'abbronzatura e poi la versione antirossore per le pelli un pochino più delicate. Vi ricordo inoltre che tutti i prodotti BioChic sono reperibili sul sito dello shop online della profumeria in tutti i negozi del gruppo. Mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e lasciate un bel like. Da BioTips oggi è tutto, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!